Sentinelle scantabili nell'attendere Gesù perché lo amiamo, non a parole, ma con i fatti, con questa attesa. E mentre lo accendiamo, ci prendiamo ancora, giù degli altri. Maria, che noi dobbiamo chiamare Madre d'Emore, è la Sentinella. Lei è la Sentinella di tempo indeterminato, con lei che ha saputo attendere con speranza, lei che per prima visto Gesù nascendo, appunto, prendendo tra le braccia, lei che ha dovuto attenderlo per tutta la sua vita terrena dopo la separazione fisica con il figlio, lei che adesso attende tutti noi, Sentinelle, tutti noi figli, in attesa di essere poi insieme, tra un anno, viverebbe la comunione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ma è una Sentinella un po' particolare, la vita rivestita in modo particolare, detto a occhi aperti. Innanzitutto è una Sentinella che si sporca stando in mezzo ai conti. mezzo a noi gente semplice, mezzo a noi che siamo peccatori, che rotoliamo nel fango. Lei è la Sentinella che non sta, è contentativa sì, è contentativa anche agli occhi aperti, contentativa sì, ma non credibile. Cioè, guarda, attende, ma non sta ferma. Si mette a servire chi? Gesù, ma attraverso la persona umana, nel concreto, lei scelte il nostro Padre. Questa è la grande considerazione. Siamo dei grandi peccatori, grandi, dobbiamo essere onesti, grandi peccatori. Ma lei non ha vergogna di buttarsi nel fango per ricordarci che siamo ancora figli, che non siamo solo peccatori, noi siamo anche figli. Lei si mette tra i poveri di ogni forma di povertà, va dagli ammalati, lei va dai carcerati, i delinquenti, quelli di bruglioni, prima ancora dei carcerati convertiti, perché è comunque una mamma. Il mio cuore è un uomo figlio. Quindi va prima da quelli più disperati, o che fanno disperare. Va dai sacerdoti, non solo quelli buoni e bravi, ma da quei sacerdoti che commettono l'arroio, il peccato, che cenerano con tanta superficialità e tievidenza, che predicano senza mettere il trasporto del cuore, senza l'amore. Si sporca, lei, mentre va, si rompe il vestito e non se lo fa uscire, non si mette, non perde tempo a mettersi un abito nuovo. Lei rattogli e va avanti. Perché? Perché non c'è tempo da vedere. Perché Gesù sta pervenire. E i Suoi figli hanno bisogno di riaprire il cuore, farlo diventare il dame, ripucire le proprie figlie. Quindi non può perdere l'edale. E non fa niente, non ha paura di sporcarsi un gremiole bianco. Assolutamente no. Perché chi ha il cuore abito non ha paura di sporcarsi un vestito. Non ha paura di sporcarsi le mani. Chi ha il cuore pulito e chi ha lo sguardo limpido, sa vedere in ogni persona il buono. Il buono lo fa emergere, lo promuove. Non ricorda all'altro il proprio fallimento. Lo rialza e gli dice che tu hai una nuova possibilità, puoi avere una nuova vita. però l'ingrediente è sempre quello che Gesù lo devi accogliere. Lo devi accogliere nel sacramento. Ogni volta, ogni volta lo devi riaccogliere. Lei le sentirei la Bibbia, non solo guarda, ma cammina, vuoi? E poi ci puoi invogliere. Ci puoi invogliere. Allora è che Gesù sussurda non dormire, non accontentarti, non adagiarti. Vieni con me, perché lavoro è tanto. Il suo messaggio, che noi diciamo, lei scrive nei cuori di ogni persona, di ogni figlio, trattati di povertà. La prima venuta di Gesù è un trattato di povertà. Lui, Dio, si fa piccolo e povero. Non dormire. Dov'è in alto? Il figlio di Dio. Non ce lo dimentichiamo. Noi ricordiamo l'ascoltato del Pentecino. Dov'è in alto Gesù? Come è cresciuto? Povertà. Quindi, lei scrive i trattati di povertà e ci dice che il cristiano è fondamentalmente un povero. Un povero con il povero. Poi, accettiamo questa condizione, altrimenti arriverà un certo punto in cui ci sembra impossibile seguire Gesù. E povertà è vivere in modo particolare in funzione della volontà di Dio. il povero si sa accontentare prende quello che serve e tante volte condivide quello di sé quello che ha e quel povero che ha condivide. Il povero non ha paura di difilisitare il vero uomo di quello dell'Angelo non ha paura di condividere quel povero che sa che non ti mancherà mai nulla da dedola dell'Angelo da quel povero anzi da tutta la mente ed è icona di Cristo che per sé non ha non si è tenuto niente e ha lasciato ogni voce di santo per rendere ricchi tutti. Temete, onorate, onate e benedite ringraziati, adorate il Signore Dio di potere nella trinità e le unità Padre, Figlio e Spirito San creatore di tutte le cose.